Musica Utilizzare i prodotti del territorio per creare la pizza romagnola, reinterpretando impasto e farcitura. Dalla collaborazione tra Molino Benini e NIP, nazionale italiana pizzaiole, nasce la pizza stramba. La pizza stramba è stata infatti presentata con un evento al Molino Benini che ha compreso una visita guidata, musica, prodotti romagnoli e ovviamente tanta tanta pizza stramba. Una giornata di festa per il Molino Benini e oggi viene presentata la pizza stramba. Intanto da dove è partita questa iniziativa? È partita da una collaborazione con Doviglionardi che era un po' di tempo che volevo conoscere e c'è stato un approccio un po' lungo ma alla fine siamo arrivati a fare questo progetto. E lui mi ha proposto questa ricetta di pizza romagnola e l'abbiamo chiamata stramba. Oggi la presentiamo un po' a tutti e quindi siamo contenti. Diciamo che il prodotto principale di questa pizza è proprio la farina del Molino Benini. Che caratteristiche ha questa farina? Certamente è il primo ingrediente per fare la stramba. La caratteristica è la provenienza, la filiera dei grani romagnoli che è una trentina di aziende agricole qui della zona di Santo Stefano dove si trova il Molino, provincia di Ravenna. e scegliamo le varietà che devono essere omogenee e simili tra loro. In questo modo garantiamo la costanza oltre alla provenienza e questo è molto importante. Che particolarità hanno i grani romagnoli rispetto magari ad altri grani? Beh, questa delle ville unite è una zona riconosciuta da tutti come zona avvocata per il grano tenero. Quindi la qualità di base è alta. Poi il fatto di scegliere varietà simili assieme ai nostri agricoltori garantisce le caratteristiche poi della farina. Parliamo un po' anche del Molino Benini, qualche caratteristica della struttura, insomma quanto produce, da quanto tempo è presente sul territorio? Volentieri. La famiglia Benini si è instaurata qui a Santo Stefano, in questo Molino, nel 26. Quindi ci avviciniamo al centenario, ma esisteva già un molino, un molino a pietra che andava con la motora a scoppio. E da 22 anni ho rilevato la gestione e ho continuato perché è un molino particolare, un molino che macina lentamente senza stressare la farina e a basso impatto tecnologico la farina esce a una temperatura di 20 gradi dal molino, quindi rimangono intatte tutte le proprietà del grano e il profumo. Torniamo alla giornata di oggi che si apre proprio con una visita guidata al Molino, quindi aprire le porte a tutti i visitatori. Sì, è un open day, è una cosa che facciamo molto volentieri già da diversi anni dopo averlo ristrutturato, messo a norma, che è stata un'operazione impegnativa che è durata 5 anni. Da quel momento abbiamo cominciato a farci conoscere, a far vedere in trasparenza quello che facciamo. Poi è anche bello da vedere perché è un molino appunto d'epoca, i laminatoi sono del 54, quelli che si vedono dietro di me, sono del 1954, ma lavorando con attenzione, senza esagerare e senza scaldare le macchine poi si mantengono anche di più. Al Molino Benini oggi si presenta la pizza stramba che nasce da un progetto molto particolare, quindi vogliamo partire dagli esordi di questo progetto. Sì, diciamo che il Molino Benini del territorio qui di Ravenna si è rivolto a me, io sono Doviglionardi, faccio progetti sull'alimentazione per promuovere quello che è le farine del territorio. Allora studiando il Molino ho visto l'eccellenza dei grani comprati in Romagna, quindi coltivati in Romagna e macinati da loro con una struttura di Molino incredibile perché rispecchia il sistema di macinazione del 1954 addirittura con i macchinari. Allora il valore del territorio Romagna mi ha fatto pensare a creare una pizza nuova, però con sistemi di lavorazione antichi, quindi sono andato a creare una pizza particolare studiata nel sistema di lavorazione degli impasti, nell'innovazione degli impasti. Innovazione si intende rispettando un po' tutto il territorio, quindi abbiamo gli impasti a Sangiovese, gli impasti alle erbe romagnole, gli impasti con semi integrali, quindi viene lavorata questa pizza con delle farine particolari appunto che sono quelle del territorio. Ma anche il sistema di stesura e cottura è diverso perché la forma è particolare, addirittura grazie alla forma è stato studiato il nome Stramba, che è un nome che ha voluto dare il Murino Benini, Stramba perché è tutta Stramba, nel senso che è particolare, il bordo è sfrangiato, è sottilissima, quindi andrà a risaltare ancora di più i condimenti, sui condimenti abbiamo poi preso tutti i prodotti del territorio, caseari, saccadi, ma particolarmente anche le verdure, quindi è una pizza che abbraccia un po' tutta la Romagna di per sé e mi fa piacere regalare questa innovazione che però rappresenta proprio l'antichità, anche come grani, come macinatura di farina. Quindi possiamo dire che nasce oggi la vera pizza romagnola? Diciamo così, io credo proprio di sì, chiaramente Stramba romagnola sarà il nome che verrà attribuito, è una pizza, la parola pizza storicamente vuol dire schiacciata, pizzare vuol dire schiacciare, è un dialetto antico, Stramba romagnola è sottile, è grande, bordo sfrangiato, prodotti del territorio e il valore di questa pizza sono proprio i grani coltivati qua. Andremo a divulgarla con Nip Food, che è l'azienda che fa formazione selezionata da Mino Berini, la mia azienda, andremo a divulgare nei locali di eccellenza della Romagna e poi dopo ci allargheremo l'intenzione quella di proporre a tutta Italia la vera pizza romagnola, Stramba. È una pizza fatta con il mattarello, come la piadina anche? Esatto, in questo caso diversamente da altre pizze il mattarello è d'obbligo, quindi è proprio il mattarello che trasferisce una compattezza del glutine che però viene maturato in 72 ore. Abbiamo creato anche la rottura degli impasti, quindi la rottura del bordo, lo sfrangiamento del bordo fa in modo che il prodotto anche nel bordo mantiene un crunch, quindi una fragranza, ma anche una croccantezza e freabilità. Qual è la differenza nell'impasto, lei un po' ce l'ha spiegato, tra la pizza normale e la pizza romagnola che ci sta proponendo? Beh, intanto stiamo parlando di farine che vengono lavorate con delle macchine del 1954, quindi è una particolarità, è un grano di media forza, quindi ha un contenuto di glutine limitato, e la particolarità è che si rispettano tempi di impastamento, quindi prima si prende la farina, si fa girare, si ossigena, viene miscelata poi una piccola percentuale di integrale sempre della Romagna, poi se abbiamo il Sangiovese intanto viene utilizzato il vino e quindi va trattato in un certo modo, bisogna abbassare il grado alcolemico, il grado dell'alco del vino, sulle erbe romagnole vanno lavorate in un certo modo, e quindi una volta preparati gli impasti siamo pronti poi per la loro stesura. La tecnica di impastamento è che ha più tempi di lavoro, però è anche molto semplice farla, basta solo comprendere la ricetta. In questo momento stiamo vedendo tutti i pezzaioli in azione, abbiamo già steso l'impasto e stiamo mettendo i prodotti sulla pizza romagnola. Intanto, l'utilizzo di prodotti già pronti nella sua pizza romagnola, come funziona? Allora, noi per appunto creare quello che è la pizza romagnola faccio formazione, quindi questa è la nostra squadra che ha fatto un corso con noi per imparare a fare la stramba romagnola. Chiaramente la stramba romagnola che ho creato verte su prodotti del territorio, aziende del territorio. Grande importanza hanno gli ortaggi, grande importanza hanno la varietà degli ortaggi. Abbiamo scelto le erbe campagnole, la fava e ogni genere di altri ortaggi, in questo caso dietro vedete un verde scuro e un verde chiaro. Il verde scuro è una crema di erbe campagnole Orogel e il verde chiaro è proprio la fava, tal quale Orogel, che noi poi trasformiamo in crema con un pinner, viene condita semplicemente, quindi sono erbe addirittura a crudo, quindi nel momento in cui le mettiamo alcuni minuti al forno mantengono anche maggiormente l'organo lettico. Chiaramente le erbe non sono solo sopra la pizza, ma sono anche dentro l'impasto, quindi Orogel nella pizza stramba in questo caso ha una valenza importante. Chiaramente questo perché? Perché la reperibilità dei prodotti del territorio possono essere trovati in tutta Italia, perché la pizza stramba è un progetto nazionale per quanto ci riguarda parte dal territorio. È logico che le erbe campagnole si intende la selezione del territorio, ma Orogel del resto ha dei prodotti di alta qualità, quindi è possibile fare le stesse ricette in tutta Italia grazie a Orogel. Le erbe hanno una funzione importante e quindi abbiamo utilizzato prodotti già pronti che però sono di altissima qualità.